Ampliato il personale della provincia di Teramo nel 2023, nella giornata di ieri il presidente Camillo D'Angelo ha salutato le nuove assunzioni insieme ai dirigenti di Via Miglia e Via Capuani. 42 sono le unità e 10 gli avanzamenti di qualifica. Dopo 20 anni torna anche la figura dei cantonieri. Saranno 10 in totale che prenderanno servizio per la cura e la manutenzione del patrimonio viario, mentre le altre andranno a potenziare le restanti aree. D'Angelo oltre ad esprimere tutta la sua soddisfazione per l'anno passato ha annunciato che ci saranno delle nuove assunzioni nel 2024 affinché la provincia ritorni ad essere un punto di riferimento in tutti i settori. La provincia di Teramo torna a essere protagonista, torna a essere una provincia attiva, una provincia che ha assunto tanto personale in tutti i settori, nel settore tecnico, in quello amministrativo, nel settore della vigilanza, ma soprattutto dopo oltre 20 anni di assenza tornano in provincia i cantonieri. Saranno gli elementi di sorveglianza e custodia delle nostre strade che consentiranno di evitare i fenomeni di discesso idrogeologico che purtroppo interessano tutta la nostra viabilità. Questo è solo uno dei primi passi, altre assunzioni verranno fatte nel corso del 2024 per potenziare la manutenzione ordinaria di tutto il nostro territorio. Sul versante politico entro domani D'Angelo dovrebbe annunciare le deleghe del Consiglio provinciale dopo le elezioni del 17 dicembre scorso, da capire quale sarà il ruolo di Enio Pavone di azione, l'eletto che può garantire una lieve maggioranza al centro-sinistra.